Novità importanti sul fronte dei grandi volumi arcensi, in particolare riguardanti l'ex oratorio e le vecchie scuole di vigne. L'amministrazione sta lavorando per chiudere entrambe le partite. Sullo stabile fattiscente dell'ex oratorio di Via della Cinta è assicurata la presenza di un privato pronto ad acquistare la proprietà. Sulla destinazione finale c'è ancora il massimo riservo, anche se in passato si è sempre parlato prevalentemente di un ostello. La trattativa è in corso d'opera e per il comune di Arco potrebbe trattarsi dell'ultimo atto prima della riqualificazione dell'area limitrofa alla casa di cura Regina. Passi avanti anche per le ex scuole di vigne, dove anche in questo caso il suggerimento arriva da un privato. L'idea è stata accolta positivamente dall'amministrazione comunale. L'idea è quella di provare a realizzare appartamenti a canone moderato per padri e madri separati. Il sindaco Betta fa sapere che vi è la volontà di approfondire la proposta e provare a concretizzarla. A dare il via all'iniziativa è stato Roberto Calzà, arcense e padre separato, che dopo aver vissuto sulla propria pelle le difficili dinamiche della separazione, ha chiesto al sindaco un colloquio per sottoporre la propria idea. Calzà spiega che si chiameranno dei tecnici esperti per capire se la struttura di vigne dovrà essere demolita e ricostruita. I primi destinatari di questo eventuale progetto saranno principalmente i padri separati che nelle statistiche per difficoltà economiche superano in percentuale le madri. Ma Calzà ci tiene a precisare che saranno appartamenti per entrambi i genitori, sia padri che madri.